Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness ed eccovi un video sulle nuove mappe di nuovo in compagnia di Karakin. Quindi, ovviamente, vi lascerò sentire il commentary che abbiamo fatto io e lui in partita, esattamente come era nello scorso video. Questa è la prima partita che abbiamo fatto, ne segue un'altra, che però andrete a vedere sul suo canale se vi interessa. Il link lo troverete qui in descrizione. Ci sentiamo a fine video, bella ragazzi, ciao! Vedi, adesso appena arriviamo su e c'è lo scontro. Tu vuoi, eh, Gio? Sì, sì, questa mappa qui è molto, molto esageratamente lineare. Capirai cosa intendo. Ok, ti vede Gio, no? Stile metro proprio. Vai avanti, vai torna indietro, vai avanti, torna indietro. Spinge o tira, praticamente. Ecco, D sarà dove ci scontreremo. Esatto, senti già i proiettili. Va bene, vai. Azzo, quanti sono già. Minchia, se mi hanno arrato. Mi hanno shottato, praticamente. E anche tu lì? Sì. Penso di sì. Spano su Alessandro. Ok. Wow, 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 wow. Puti la pompa, madonna, che mi hanno rotto. Dai, salvami che t'ho salvato. È morto? Sì, lo sai, ok. No, ma hanno già rinimato, tranquillo. Incredibile, giro l'angolo. Boom, bam. Faccio un giro un po' più largo, io. Basta, hanno già preso tutto. Guardami sulla mappa. Vieni con me. Dov'è questo? Ah, ecco, non ci... Adesso ci hanno preso E. Torna indietro, torna indietro, prendiamo E. Stiamo a coprire quelle due bandiere che saranno le più prese di mira di tutte. Dov'è questo? Vediamo. No, vabbè, è impossibile che mi scelta così. Ci ha messo adesso il compensatore, che secondo me non è male, per il vincolo orizzontale. Altrimenti, vabbè, per ora ha impugnatura angolata, però ci metterò la tozza e... Ah, è puntatore laser, come al solito. No, faccio andare i miei alleati. Andiamo, 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 ormai siamo qua. Ok, ho c'ho, eh. Dove sei? Ok. Eh, non ho visto il nemico ancora. Sto andando avanti e indietro, avanti e indietro, non ho visto il nemico. Asso, ci hanno preso proprio tutto, ci hanno preso. Arrivano, arrivano. Ah, queste case cadono completamente. Mmm. Nooo, c'è uno da un trato di dietro. No, come ha fatto a uccidermi? Due colpi, ovviamente. Va, ti rianimo. Grazie. Allora, questa è fatta una doppia. Questa cassa è infestata dai nemici, praticamente. Sai quando uno si dice, è infestato dagli insetti? No, qui dai nemici. Bella doppia. Pazzo. Però hai fanteria pura, mi piacciono queste mappe. Sono morto, cinque. Ah, mi ha ucciso. Ah, io ho fatto una bella serie. Oh, sponiamo sole. Ok. Prendiamo anche C. E io ci interventiamo un link, perfetto. Ma possiamo ancora recuperarle. Sì. Se facciamo tutti i miei dd, così gli hanno gli ombri, come tutti i miei dd. Ce la possiamo fare. Esatto. Guarda, oh, abbiamo tutto. Grandi, gli altri due sono andati sull'altro link. A catturare l'altra bandiera. Enemy link broken. Aspetta. Ah, tu c'è la lingua inglese? Sì. L'ho impostato un po' di tempo fa in inglese. È carino. Io ho bifetto in inglese. L'era troppo più. Occhio. Oh, abbiamo ribaltato la situazione, eh. Sì, ma ci stanno prendendo dal lato. Da dove? Da destra. Da lato, da destra. Però l'abbiamo ucciso. Ce ne sono altri che stanno arrivando di qua. Qui ci sono i nemici. Aspetta, provo a pusciargli un po'. No, sono troppo glicciati. Porniamoci un po' di nade. No, vabbè, andiamo. Pusciamo qua. Due. Guarda come era camperato. Che schifoso. Dov'è? No, no, è ucciso. Tranquillo, ok. Qua abbiamo preso tutto, torniamo indietro, va? La nostra squadra ce la fa, Li, tranquillo. Vieni, vieni, torna indietro. Vaia. Ci stanno riconquistando da quella parte. Guarda che recupero che abbiamo fatto in due secondi su sta modalità, madonna. Eh, sì, perché appena mi sbagliano un po' tanto, così... O scontrano la vittoria, sbagliano. Sto dietro di te, guarda, eh? Perfetto. Dietro. Ok, ho preso. No, c'era l'altro. Dove? Eh, sono un cancello, però... Ormai tu sei lontano. Ah, so, ho provato a venire lì, mi sono morto. Eh. A posto. Andiamo sul segnalatore. E l'hanno messo, quindi... Questo B, la stanno prendendo, quindi... Ok. Sponso di te. La prendiamo anche... Esatto, e poi andiamo subito. Anche se ora inutile la prenderà, perché... Questa bandiera mi piace da catturare. È protetta. Ah, so, subito mi hanno shottato. Eh, mi spiace di arrivare col 20, perché è pieno. Fa niente, fa niente, sono morto, fa niente. Piuttosto sopravvivi là. Parcisi. Sono subito io. Adrivo, eh. Ah, qua, non ci so Alessandro Ferro. Come si permettono. No, da dietro. Eh, cassa no. Perché non lo spavolano da lì, praticamente. E con questo si conclude questo video e questa partita su propaganda. La mia mappa personalmente preferita di questo nuovo DLC. Vi ricordo di andare a vedere il link in descrizione per il canale di Karakin e per vedere, ovviamente, il video che segue la partita seguente che ho fatto di nuovo con lui. L'abbiamo disputata di nuovo insieme. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi. Ciao. 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 Ciao.